Monti con serietà ha richiamato le forze parlamentari che lo sostengono alla responsabilità comune con il governo che è quella di fare in modo accelerato le riforme che servono all'Italia. Sono convinto che tutte le forze parlamentari che fino ad ora hanno dato la fiducia a Monti continueranno a seguire questo lavoro di riforme perché tutte le forze che lo sostengono hanno da guadagnare dai buoni risultati che il governo sta ottenendo.